Adesso andiamo in mezzo all'arco dei coraglioni Questo viene chiamato l'arco dell'amore, l'arco dei deliteri, come preferite Stavamo ritorciando il coraglioni, ah, vediamo il pallone, ah, c'è il 2, ah, c'è il 2, ah, c'è il 2, ah, c'è il 2, ah, c'è il 3, ah L'arco dell'amore, l'arco dell'amore 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 L'amore 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 Grazie.